Lo sviluppo territoriale della Puglia passa attraverso la mobilità sostenibile grazie agli investimenti di infrastrutture e mezzi all'avanguardia e quanto emerso dal focus gruppo in Fiera di Levante sui trasporti e la mobilità. Presente l'assessore ai trasporti della regione Puglia Giovanni Giannini, il direttore generale dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio e Rio Sanicandro. Grande ottimismo ma soprattutto numerosissime reazioni già compiute per ciò che riguarda il trasporto su gomma, con l'investimento per nuovi pullman extraurbani e fondi per l'acquisto di bus urbani ecologici. L'ammodernamento e il potenziamento della rete ferroviaria, l'importante interconnessione tra RFI e le ferrovie private, dove ad esempio nel Salento l'interconnessione tra ferrovie sud-est e RFI porterà ad ottenere un reticolo tipo metropolitana di superficie. Ma non è tutto, sono in arrivo anche nuovi mezzi. Si è discusso anche del ruolo strategico degli aeroporti e porti pugliesi per il trasporto, la logistica e il trasferimento delle merci. Abbiamo avviato l'operazione e finanziato già per intero l'operazione di ricambio del materiale rotabile. Ci saranno 46 treni di Trenitalia che sostituiranno per intero l'attuale flotta, più un'altra settantina di treni che sostituiranno i treni attempati degli altri concessionari. Abbiamo finanziato l'acquisto di 900 pullman extraurbani, abbiamo messo a disposizione dei comuni che fruiscono del servizio di TPL 68 milioni per l'acquisto di bus urbani di ultima generazione. È necessario andare avanti sul potenziamento infrastrutturale, come sapete abbiamo in corso il cantiere per il completamento di un grande progetto programmato nel 2010, della Bari Barletta, abbiamo in corso l'interamento delle tratte sud-est nei comuni di Trigiano e Capurso, l'elettrificazione della tratta Martina-Lecce-Gagliano del Capo. Dobbiamo proseguire in questa direzione e programmare per esempio il collegamento elettrificato di Lecce-Gagliano con Gallipoli in modo da mettere in relazione l'Oionio con il versante adriatico. Sicuramente nell'ambito del piano strategico regionale, cioè il piano che traccia gli obiettivi, i programmi futuri della regione, la mobilità rappresenta sicuramente uno dei temi fondamentali. Noi stiamo lavorando già da tempo sul tema della mobilità sostenibile, quindi sull'implementazione del trasporto pubblico, trasporto soprattutto sul ferro, quindi implementando le infrastrutture mediante l'intermodalità, l'interoperabilità di tutte le ferrovie dello Stato e ferrovie concesse. E poi l'altro tema è quello della razionalizzazione del trasporto pubblico su gomma, su cui abbiamo fatto vari studi, analisi sulle matrici origine e destinazione per capire quelle che sono effettivamente le esigenze, quelli che sono i flussi di traffico e in funzione di quelli razionalizziamo i percorsi degli autobus con le aziende di trasporto in modo da evitare che ci siano delle linee sottutilizzate o addirittura inutili e rafforzando invece quelle linee dove c'è effettivamente una grossa esigenza. Altro tema fondamentale è quello della mobilità sostenibile alternativa, quindi la ciclopedonalità e quindi la realizzazione delle ciclovie. Stiamo realizzando il piano regionale della mobilità ciclistica, è quasi pronto, adesso sono avviate le fasi approvative. Il piano regionale delle merci e della logistica che trasferisce anche sul tema dei trasporti, quindi dei mezzi di trasporto più pesanti, il tema delle interconnessioni e quindi dell'intermodalità.